Abbiamo un edificio proprio per noi, per svolgere le riunioni, per creare gli eventi, là diamo vita alla magia. Bene, bene, è un mondo da scoprire. Quindi, se siete curiosi, recatevi a Candida, in provincia di Avelino, in Irfinia. E ascoltiamo un po' anche Anthony, che è un po' distante da me, ma Anthony, facciamoci sentire. In questi anni di collaborazione e conoscenza, che cosa hai potuto apprezzare di più del movimento? Allora, sicuramente all'inizio, quando siamo partiti, eravamo in pochi, eravamo in sette. E c'era un po' di... non eravamo un po' scettici, però col tempo avevamo comunque dei valori come determinazione, grinta, cuore. E col tempo la cosa che più mi ha fatto piacere e che più ho apprezzato è stato il fatto di essere riusciti nel tempo a farlo capire anche ai nuovi arrivati. Bene, bene. Quindi avete trasmesso proprio il vostro entusiasmo agli altri? Sì, esatto. Ci siete riusciti in questa vostra mission? Sì, molto. Io penso che siete partiti ai sette e vi siete ritrovati in trenta, vero Emanuele? Allora noi andiamo ancora in musica, restate sintonizzati sempre qui con noi su CRT Radio. Emanuele? 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti